La sanità di Blair collasso una vera e propria emergenza negli ospedali di Modica e Vittoria dopo il rinvio dell'inaugurazione del nuovo ospedale a Ragusa, intanto questa mattina riunione in prefettura per fare il punto della situazione. La città di Ragusa non solo si è stretta attorno al dolore delle famiglie di Giorgio Licitri, Simone Culino e due ragazzi deceduti a seguito dello scontro frontale sulla Ragusa Catania, incidente in cui è morto anche un uomo di Lentini. Si è insediato ieri sera il Consiglio Comunale a Santa Croce Camerina dopo la vittoria del sindaco Giovanni Barone, ieri sera giuramento dei consiglieri e del primo cittadino, eletto anche il presidente della Civica Sise, si tratta di Piero Mandarà. Un progetto sociale che permetterà l'inserimento lavorativo di due detenuti nel carcere di Ragusa per il confezionamento di detergenti destinati alla pulizia di enti privati e pubblici. Si tratta di un progetto pilota, il primo in Sicilia. Buonasera ai telespettatori di MTG, ben trovata ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. C'è un'ampia pagina dedicata alla sanità Iblea in apertura. Parliamo dell'ospedale, degli ospedali di Modica e Vittoria. All'ospedale Maggiore ci sono reparti in cui non funzionano i condizionatori, alcuni pazienti oggi si sono anche sentiti male. Qualcosa non va, così come all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Soprattutto al pronto soccorso del nosocomio Iparino, dove dal prossimo primo luglio potrebbe anche profilarsi la chiusura del pronto soccorso. Restano solo due medici ed un altro che non presta servizio notturno. Insomma una situazione di vera e propria emergenza. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. La sanità Iblea è al collasso. Decine e decine di richieste ne vase. Nessuno dei vertici dell'azienda sanitaria risponderebbe alle esigenze segnalate più volte dai nosocomi di Modica e Vittoria. Soprattutto adesso che l'attenzione è tutta concentrata sul nuovo ospedale di Ragusa. All'ospedale Maggiore di Modica condizionatori ormai guasti da mesi, nonostante le numerose segnalazioni. Ma ad oggi nessuna risposta. I tecnici sono tutti impegnati a completare il nuovo ospedale Giovanni Paolo II. E dunque nessun tecnico dell'ASPO, ditta esterna, pare sia disponibile ad intervenire per mettere a posto il sistema di climatizzazione generale che lascia un intero ospedale nel caldo più torido ed affoso che si sia mai visto, considerate le altissime temperature di questi giorni. È stata infatti una paziente a chiamare la nostra redazione segnalandoci quanto accaduto nel reparto di Otorino Laringo e Atria. La donna questa mattina, in attesa di un controllo medico, ha accusato un malore per il forte caldo, una spostatezza che l'ha costretta a cercare una stanza un po' più fresca dove poter attendere il proprio turno. E con lei altre persone? Un problema che non riguarda solo il reparto di Otorino Laringo e Atria, ma anche gli ambulatori che da mesi sono senza aria condizionata, così come la nefrologia. Anche singoli climatizzatori hanno bisogno di manutenzione, ma nessuno interviene. La chiusura dell'ospedale civile, in cui al momento è rimasto solo il reparto di medicina e il trasferimento delle altre unità operative, hanno completamente mandato in tilti pronto soccorso di Vittoria e Modica, che devono sopperire alle continue urgenze di un'intera popolazione spiazzata dal rinvio dell'inaugurazione del nuovo ospedale, i cui tempi non sono stati ancora definiti. Tanta fretta per poi non portare a nulla, solo al caos e al collasso degli altri due spocchi blei. Al maggiore di Modica anche le attività dell'area chirurgica sono state interrotte perché i medici devono sopperire alle urgenze. Nessuna riunione sarebbe stata convocata con i dirigenti medici di Modica e Vittoria per organizzare il trasloco dal civile al nord e per capire soprattutto come fronteggiare le emergenze negli altri due ospedali. Come se non bastasse il pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria dal primo luglio potrebbe chiudere, considerato che ci saranno solo due medici ed uno che non svolgerà servizio notturno. Il pronto soccorso è ridotto ai minimi termini, l'allarme era stato lanciato anche dal vice sindaco Andrea Larrosa. Sono troppi e molto evidenti disagi nei confronti dell'utenza. I vertici dell'ASP, scritto Larrosa, sono chiamati subito ad intervenire per potenziare il personale. Se l'apertura del nuovo ospedale andrà per le lunghe, anche il nosocomio modicano andrà verso il collasso, in un periodo tra l'altro in cui il personale dovrà andare in ferie. Forse in tutto questo caos e malessere in cui versa la sanità iblea, una buona notizia c'è. A metà luglio potrebbe essere inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, i cui lavori sono a buon punto e manca veramente poco. E' polemiche per la nomina di Maurizio Ricò, manager dell'ASP 7 di Ragusa, commissario dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo. L'aggiunta lo ha stabilito ieri pomeriggio scatenando anche le preoccupazioni per il destino del nuovo ospedale Giovanni Paolo II. Dal primo pomeriggio di ieri il suo telefono squilla ma lui non risponde. Maurizio Ricò, manager dell'ASP 7 di Ragusa, era già stato informato probabilmente della sua nomina a commissario dell'ospedale più ambito in Sicilia, il Villa Sofia Cervello di Palermo e non ha alcuna intenzione di rilasciare commenti. Torna nella sua città originaria appena l'assessorato regionale alla sanità notificherà il decreto di nomina ma se ne andrà con tanti progetti lasciati a metà e un'inchiesta dalla Guardia di Finanza Aperta che ha anche contribuito a rallentare i tempi di inaugurazione del nuovo Giovanni Paolo II. Ora la perplessità oggi più di ieri verte sui temi di trasferimento dei reparti e delle attrezzature nel nuovo ospedale. Ci troveremo con un commissario che proviene dalla realtà sanitaria grigentina, Salvatore Lucio Ficarra, aspramente criticato dal sindacato dei medici Il Cimo e dal PD locale che hanno contribuito certamente a spostare il manager in un altro territorio. Come loro, due altri tre manager su nove sono stati nominati commissari in altre province siciliane. A Ricco è stato premiato, ha ribadito con entusiasmo il deputato regionale Nello Di Pasquale per il grande lavoro svolto in provincia e sulla mancata inaugurazione del nostro comio ragusano nei tempi previsti Di Pasquale ha azzardato, conscio dello stato dei lavori, dare una tempistica, 15 giorni per il taglio del nastro. Mancano solo due certificazioni e poi l'ospedale che tutta la comunità da 20 anni attende sarà consegnato con nuove tacche e sale operatorie. Le polemiche a replicato Di Pasquale resteranno a chiacchiere e tutti gli uccelli del malaugurio saranno costretti a chiudere il becco e a prendere atto che dopo 20 anni c'è una classe politica che è riuscita a farlo finanziare con 8 milioni e mezzo di euro e a farlo aprile. L'Onorevole ha anche annunciato di convocare una conferenza stampa per illustrare le tappe che hanno portato all'inaugurazione del Giovanni Paolo II. Cauto è il presidente della Commissione di Sanità Larsa Pippo Di Giacomo che non ha voluto commentare la nomina di Ericò come commissario a Palermo ma si è limitato a dichiarare che metterà piede al Norro solo dopo averne accertato il collaudo. Mentre attendiamo il commissario Ficarra il sindacato dei Medici ricorda cosa invece lui non ha mai fatto da grigento. Speriamo che almeno sia lui a tagliare il nastro del Giovanni Paolo II. Ed il futuro del nuovo ospedale di Ragusa a prode in prefettura. C'è stato un incontro questa mattina promosso dalla prefetta Maria Carmela Librizia a cui ha partecipato il sindaco Federico Piccitto, il manager dell'ASP Maurizio Ricò, il direttore sanitario dell'ASP Pino Drago e il comandante dei vigili del fuoco Aldo Comella. Le procedure amministrative necessarie per il trasferimento dei degenti dall'ospedale civile al nuovo Giovanni Paolo II sono ancora in fase di definizione, ha detto Piccitto. Si tratta di un fatto grave perché fa accadere la possibilità di un completamento del trasferimento complessivo dei reparti e dei degenti entro il 30 giugno che coincide con la scadenza dell'incarico del direttore generale. Il vertice in prefettura ha voluto definire i passaggi ancora necessari per la definitiva apertura del nuovo ospedale sui quali il manager raggiunge il primo cittadino non è stato in grado di definire una tempistica certa, soprattutto alla luce della scadenza del suo mandato prevista per venerdì prossimo. Peraltro non ci risulta, scrive ancora Piccitto, al momento alcuna comunicazione da parte dell'ASP in merito alla sentenza del Tarsicilia che ha accolto il ricorso del comune di Ragusa, specie rispetto alla mancata previsione dell'unità operativa complessa di neurologia. E adesso cambiamo decisamente argomento. La città di Ragusa si è fermata per qualche ora per astringersi al dolore delle famiglie di Giorgio Licitre e Simone Gulino. I due giovani morti la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in territorio di Lentini sulla SS 194. Due cortei partiti dalle rispettive abitazioni hanno condotto i feretri fino alla cattedrale di San Giovanni. I cori degli ultra per Giorgio Licitre, il grido di battaglia della tifoseria ragusana, gli applausi, le magliette, quella foto di Simone Gulino hanno accolto il feretri in Corso Italia dove si sono ricongiunti dopo essere partiti in corteo dalle abitazioni. Simone alla bara marrone e Giorgio Bianca entrambi insieme percorrono la via che li ha condotti nella cattedrale di San Giovanni Battista Ragusa dove il parroco Don Gino Alessi insieme con altri due preti e ha celebrato le sequie. La città di Ragusa, le commesse di Corso Italia, qualche dipendente degli uffici vicini si sono fermati per stringersi attorno al dolore dei familiari del 34enne Giorgio Licitra e delle 27enne Simone Gulino strappati alla loro giovane esistenza da un impatto frontale con l'auto di un lentinese Mirko Mezzapesa di 43 anni, anche lui deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato dal veicolo che ha preso fuoco dopo essere piombato sulla scarpata. Non una parola, solo gesti e lacrime per un destino crudele. La commozione, il dolore e tanti parchè non hanno risparmiato nessuno, persino chi non conosceva Giorgio e Simone. I due feretri, una accanto all'altro, le due famiglie, una accanto all'altro, unite dallo stesso dolore, entrano in chiesa dove non c'è più neanche spazio. Non c'è spazio neanche durante la celebrazione per i rancori, la rabbia, ma solo per la riflessione, solo per pensare che Simone e Giorgio continueranno a dare loro affetto. Gli oltre a ragusa a calcio hanno posizionato striscione all'ingresso della chiesa, non si sentono di parlare o ricordare Giorgio e loro amico, tra i capi della tifuseria dicono che basta solo un gesto per lui. Le ultime parole in chiesa, la lettera letta da un'amica di Simone in cui erano racchiuse anche le parole delle famiglie colpite dalla tragedia. Buon viaggio ragazzi, che siate da esempio per ciascuno di noi quando schiacciamo il pedale a tavoletta. Alla fine della celebrazione Giorgio e il piccolo, come lo hanno chiamato gli ultra, è stato traslato nella sua seconda casa, allo stadio per l'ultimo coro, così come lui avrebbe desiderato. Ed è arrivata questa mattina al porto di Pozzallo la nave della Guardia Costiera con a bordo il neonato morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La madre, una somana di 26 anni, ha partorito nel corso della navigazione dalla Libia all'Italia. Anche alla Bedusa questa mattina sono sbarcati 167 migranti. Si trova nell'obitorio dell'ospedale maggiore di Modica il corpicino del neonato deceduto subito dopo il trasbordo dei migranti sul pattugliatore comandante Foscari della Guardia Costiera avvenuto ieri sera. Il corpicino è sottoposto a un'ispezione cadaverica da parte del medico legale Santoro. Il neonato è stato partorito nel corso della navigazione dalla Libia all'Italia ma purtroppo non ce l'ha fatta, forse per complicazioni postparto. La madre è una somala di 26 anni che non appena sbarcata è stata sottoposta a controlli medici e visite specialistiche. Il pattugliatore è arrivato questa mattina alle 9 al porto di Pozzallo. A bordo c'erano 673 migranti tra cui molti uomini con scabbia e donne incinte. È stato il dottore Morello a visitare i migranti prima di farli scendere dalla nave. Poco prima dell'approdo al porto di Pozzallo uno dei migranti si è tuffato in mare nuotando verso il molo ma è stato subito preso in consegna dalla polizia di Stato ai quali ha spiegato che sentiva caldo ed aveva bisogno di fare un bagno. Una vera e propria emergenza in migrazione che dalle prime stime pare non si accenni a placarsi. Anche a Porto Empedocle si sono concluse le operazioni di sbarco questa mattina di 167 migranti, 115 uomini e 52 donne arrivati a Lampedusa a bordo di due motovedette della Guardia Costiera. Intanto a Catania uno scafista è stato arrestato tradito da un selfie. I suoi compagni di viaggio infatti lo hanno denunciato alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza di Catania. L'uomo è responsabile dello sbarco di 269 migranti e deve rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti sono giunti lo scorso 25 giugno al porto di Catania. E passo formale dell'Italia con la Commissione europea sul tema dell'immigrazione. A quanto si apprende dall'ANSA il Governo avrebbe dato mandato al rappresentante presso l'Unione europea l'ambasciatore Maurizio Massari di porre formalmente al commissario per le migrazioni il tema degli sbarchi in Italia. Messaggio consegnato dall'Italia alla Commissione. La situazione che stiamo affrontando è grave, l'Europa non può voltarsi dall'altra parte. È insostenibile, viene spiegato a motivare il passo italiano, che tutte le navi che fanno operazioni di salvataggio a prodino in Italia. Altrimenti, sottolineano fonti diplomatiche del nostro paese, si potrebbe arrivare a legare l'approdo nei porti per le navi che non battono bandiera italiana e non facciano parte di missioni europee. La Polizia di Modica ha denunciato due persone ed ha portato a termine un arresto. Un container che al suo interno, oltre che essere diventato un'abitazione, ospitava merce senza ombra di dubbio di provenienza furtiva. È la scoperta fatta dalla Polizia di Stato di Modica in territorio di Ispica, dove sono scattati un arresto e due denunce. Gli agenti del commissariato di Modica, diretti dal dirigente Nicodemo Liotti, hanno setacciato le zone rurali appartenenti alla giurisdizione del commissariato di Via Cornelia, al fine di reprimere i reati di natura predatoria. In effetti, l'operazione ha portato alla scoperta di un container trasformato in abitazione da una famiglia romena, che oltre a stabilirsi all'interno di questo, lo aveva trasformato in magazzino di merce rubata. C'era un po' di tutto, da piccoli elettrodomestici a un ingente numero di monili. Varie le tipologie di oggetti ritrovati, biancheria, televisori, casalinghi, capi di abbigliamento, cellulari vecchi e di nuova generazione. E molto altro ancora. Ad essere denunciati per il reato di ricettazione due rumeni di 56 e 21 anni. Ma la Polizia di Stato non ha terminato lì l'operazione. Contestualmente, infatti, i poliziotti si sono spostati ad una limitrofa abitazione, dove i denunciati prestavano lavoro. Proprio lì, in quel luogo, gli agenti del commissariato di via Cornelia hanno rinvenuto un fucile integro, perfettamente funzionante, ma soprattutto detenuto illecitamente. Per questo motivo è scattato l'arresto nei confronti di un ispicese, che adesso si trova ai domiciliari. Trovate altre due armi, un fucile da caccia ed una revolver, che sono state altresì sequestrate per violazioni varie della legge sulle armi. Continuiamo con la cronaca. Arrestato un coltivatore spacciatore di marijuana di Ispica, si tratta di un ragazzo di 24 anni, già noto per reati simili. Si aprono le porte del carcere di Ragusa per un 24enne fermato dalla Guardia di Finanza di Pozzallo. Il giovane, già con precedenti per droga, interrogato dai finanzieri sul possesso o meno di stupefacenti, ha mostrato segni di irrequiatezza e di ansia, che lo hanno di fatto incastrato. I militari, infatti, dopo averlo fermato, si sono recati nella sua abitazione di Ispica, dove dieci finanzieri hanno setacciato ogni angolo della casa. In un luogo un po' angusto è stato scoperto che il 24enne aveva messo su un vero e proprio bazar della droga. Nel dettaglio sono state trovate due tende adibite a serre, con all'interno mezzo chilo di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato. Inoltre, timer, pannelli fotoriflettenti, lampade e neon, prodotti chimici, fertilizzanti, bilance di precisione, taglierini e 400 euro in contanti. Quanto rinvenuto ha permesso di attestare l'intensa attività di coltivazione e spaccio dove gli avventori potevano acquistare la droga di buona qualità, proprio a chilometro zero, direttamente dal produttore al consumatore. Il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa. L'intero quantitativo di sostanza stupefacente è stato inviato al laboratorio di analisi dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa per stabilire la valenza del principio attivo al fine di quantificare i presumibili ricavi che avrebbe potuto fruttare l'attività di spaccio, che attualmente si attestano attorno ai 5.000 euro. Controllo ispettivo da parte della DIA di Catania nei cantieri dell'autostrada a 18. Così come indicato dal prefetto Etteneo Silvana Riccio, la direzione investigativa antimafia di Catania continua i controlli nei cantieri. L'ultimo in ordine di tempo riguarda il cantiere dove sono in corso i lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Esattamente in corrispondenza è la barriera di San Gregorio e degli svincoli di Ascireale e Giarre. Stiamo parlando dell'autostrada A18 Messina Catania. Il valore di questo lavoro è di circa 800.000 euro. Il controllo della DIA riguardante tutte le imprese coinvolte nei lavori ed effettuato in sinergia con il gruppo Interforze istituito presso l'ufficio territoriale del governo di Catania è composto a rappresentanti della DIA, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Provveditorato e della Direzione Territoriale del Lavoro è finalizzato a prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri di lavoro. L'accesso al cantiere è stato effettuato in maniera tale da non ostacolare la normale attività lavorativa e ha permesso al contempo il controllo di operai e mezzi riconducibili all'impresa appaltante, ossia la costruzione Bruno Teodoro S.P.A. L'assetto societario all'impresa impegnata nel cantiere, i rapporti contrattuali in essere, le maestranze identificate e i mezzi d'opera individuati saranno oggetto di accertamenti e riscontri, alla fine di rilevare criticità legate ad eventuali condizionamenti a parte della criminalità organizzata. Cambiamo argomento, Santa Croce Camerina ha un Consiglio Comunale perfettamente operante che già ha eletto il suo Presidente, si tratta di Piero Mandarà. Piero Mandarà è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, Riccardo Cognata e il suo Vice. Dopo il giuramento dei consiglieri, il civico consesso è stato chiamato ad esprimersi sul voto del Presidente. La maggioranza, in modo compatto, ha votato Piero Mandarà. Un'ennesima conferma per Mandarà che al Consiglio aveva avuto accesso come primo degli eletti con 668 preferenze. Per l'ex Assessore ai Servizi Sociali, 8 voti, 4 le schede in bianco. Anche Riccardo Cognata, nella sua elezione da Vice Presidente, ha ottenuto 8 voti. Poche le polemiche che si sono registrate in Consiglio, così come riporta il quotidiano online Santa Croce Web. Luca Agnello, secondo il quotidiano online, infatti, si è rammaricato per il fatto che, Piero Mandarà, avesse rassegnato le dimissioni da Assessore designato nonostante la nomina in prima battuta e che due consiglieri, Giavatto e Santo Donato, ricoprissero il doppio incarico, infatti sono anche Assessori. Mandarà però ha spiegato che lo ha fatto per motivi personali. Innanzitutto volevo ringraziare tutto il Consiglio Comunale che mi ha accordato questa veduce e mi ha eletto Presidente del Consiglio. Chiaramente il nostro lavoro sarà impegnativo in questi cinque anni. Noi ci impegneremo al massimo, non solo per dare le risposte alla città che merita, ma ci impegneremo soprattutto a rappresentare il bene comune di questo Paese che vogliamo tantissimo bene. Quindi con la maggioranza abbiamo un programma da portare avanti, il Consiglio sarà impegnato in questi cinque anni perché ci sarà molto da fare e molto da lavorare. Quindi ringrazio anche tutti gli elettori che mi hanno votato, che sono stati in tanti in questa tornata elettorale e speriamo di ripagarli con il nostro lavoro e il nostro impegno che metteremo. A prestare il giuramento anche il Sindaco della città di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone. Abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte della Polizia Provinciale riguardo un'azione ancora più incisiva per la prevenzione delle fumarole con verifiche nelle aziende agricole e pattugliamento del territorio. E' quanto sostiene l'assessore all'ambiente del Comune di Vittoria, Gianluco Occhipinti, al termine del vertice di questa mattina a Palazzo Iacono. Anche i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno assicurato la loro presenza per contrastare il fenomeno e proseguire con le sanzioni. Noi faremo la nostra parte, ha detto l'assessore, con l'impegno della Polizia Municipale e con il coinvolgimento dei gruppi di protezione civile comunale e volontari. Parliamo di un progetto sociale nato tra le mura della casa circondariale di Ragusa. Valorizzare forme e modelli di integrazione con risorse del territorio per diminuire l'impatto sociale ed emotivo del reinserimento dei detenuti in società. E' questo l'intento del progetto sociale ed etico che vede la collaborazione tra la casa circondariale e il centro per l'impiego di Ragusa e la società intracchimica SRL di Vittoria. Si tratta di un progetto pilota, il primo in Sicilia che permetterà di assumere due detenuti aventi requisiti previsti dalle disposizioni regionali per l'inserimento lavorativo a seguito di un tirocinio formativo retribuito. Il progetto, che sarà realizzato a decorrere dal mese di settembre, prevede l'installazione di una macchina erogatrice per l'imbottigliamento di prodotti detergenti in un locale messo a disposizione dalla casa circondariale di Ragusa. I prodotti per la pulizia confezionati dai detenuti contenenti un detergente fornito dalla ditta intracchimica saranno destinati al commercio solidale ed etico perché prodotti dall'impiego di soggetti svantaggiati. A parità di qualità con altri prodotti simili verranno immessi nel mercato a prezzi più bassi per promuovere una maggiore commercializzazione dei prodotti. Ciò è possibile in virtù di sgravi contributivi previsti dalla legge Smuraglia. I promotori del progetto auspicano che il target del prodotto, ovvero enti pubblici e privati, invogliati dal risparmio economico e dal valore etico del prodotto, decidano di approvvigionarsi delle linee di questi prodotti confezionati nella casa circondariale di Ragusa. Non un business fine a se stesso, né una speculazione finanziaria. L'economia cacceraria ha il potenziale produttivo per contribuire alla crescita del paese. Inoltre, un detenuto che lavora sperimenta relazioni sane, impara ricostruendo un ponte con il mondo e con il suo futuro. L'intervento di manutenzione, sistemazione del verde, giochi per i bambini è quanto fatto nella centrale Piazza Iolanda a Catania. Una piazza al mese e l'obiettivo è l'amministrazione comunale di Catania che ha deciso di sistemare quelle piazze che da tempo versano nel degrado. Si è cominciato ieri con Piazza Iolanda, con interventi di manutenzione del verde, della fontana e con nuovi giochi per bambini. Si proseguirà, come annunciato dal sindaco, il prossimo mese con Piazza Palestro. Piazza Iolanda è un luogo simbolo di questa città, era veramente in condizioni di degrado. Adesso sta tornando, ci sono ancora degli interventi da fare, da migliorare ulteriormente, bisogna sistemare bene anche la fontana, ma sta tornando a essere un luogo in cui ci si può incontrare, in cui i bambini possono giocare e come questa piazza ho intenzione di farne tante. Sto varando un progetto che si chiamerà Una piazza al mese. Interventi straordinari, coordinati, delle manutenzioni, del verde, di molti servizi, per sistemare tutti insieme una piazza e restituirla dalla città. La prossima sarà Piazza Palestro. Il sindaco lancia un appello ai cittadini affinché i luoghi comuni siano tutelati. Ogni catanese deve avere rispetto e denunciare se qualcosa non va. L'amministrazione comunale può e deve fare meglio, però poi la parte fondamentale la devono fare i cittadini. Qualche volta vedo manifestazioni di assoluta inciviltà, gente che sporca, butta le lattine per terra, le cartacce e quant'altro. Io vi prego, l'amministrazione comunale fa la sua parte, ma voi difendete questo spazio che è il vostro e se avete dei comportamenti gravi, chiamateci, segnalateci. Noi mandiamo le squadre di pronto intervento per evitare che questa piazza, ora dignitosamente sistemata, sia vandalizzata. Sopra luogo a Marina di Modica del sindaco Ignazio Abate per contrastare lo stato di avanzamento, per constatare lo stato di avanzamento dei lavori, asfalto, parco giochi e illuminazione pubblica è più imminente alla conclusione. Per quanto riguarda la posa del nuovo manto stradale, sono in pieno svolgimento i lavori sulla SP44, la vecchia modica marina. Inoltre saranno sostituiti vecchi impianti di illuminazione, mentre sul lungomare Buonarroti sono stati completamente sostituiti i vecchi pali della luce con moderni impianti a LED, anche il parco giochi a giorni verrà ampliato. L'ampliamento fa parte di un progetto di incremento degli spazi riservati ai più piccoli in tutta la città. E adesso ci vediamo un servizio che parla di un evento che si è svolto allo Scavolini Store di Siracusa. Show cooking organizzato da Food in Store Scavolini, un evento dedicato a tutti gli amanti della buona cucina e del design. Location nello Scavolini Store Siracusa, dove le food blogger Anna Ferro ed Elena Nasta hanno intrattenuto il pubblico con le lezioni di cucina, degustando insieme a loro le prelibatezze di piatti freschi per l'estate. L'evento si è svolto allo Scavolini Store Siracusa, uno spazio di 230 metri quadrati in Viale Scala Greca, con una curata selezione di cucine e living della vasta gamma Scavolini. Dobbiamo il piacere di cospitare iFood in Store, che è un evento che Scavolini, in partnership col blog iFood, sta sponsorizzando in tutti gli store dell'Italia. E noi in Sicilia lo stiamo sponsorizzando ancora in questo mese, oggi, il piacere abbiamo presentato un paio di piatti con la quinoa e la meringa, abbiamo avuto diversi clienti, abbiamo avuto questo piacere. Il nesso che Scavolini vuole portare avanti insieme aiFood è quello di sposare il connubio tra una cucina, un'alimentazione anche genuina, biologica, fatta di alimenti anche alternativi, a quella che è invece una cucina, quella di Scavolini, funzionale, bella, dove si possono chiaramente fare questi piatti e costruire queste pietanze interessanti e innovative. Sì, sicuramente sono delle cucine, dei programmi che hanno un grande appeal, ma quello che dico io sempre è che le cucine non devono essere solo belle, devono essere anche ergonomiche, funzionali e all'interno si deve poter cucinare e si deve stare proprio bene. Siamo quasi 18 persone, tra detti alle vendite, squadre e logistica e cerchiamo sempre di fare meglio, cerchiamo di essere sempre più affiatati fra noi. Lo show cooking ha avuto come protagoniste la quinoa e la meringa, preparata un'insalata estiva e un dessert. Noi siamo degli amanti della buona cucina, cerchiamo di portare la buona cucina nelle nostre case, nelle nostre tavole. Allora, per stasera abbiamo preparato un'insalata di quinoa con pomoderini, cipolla, menta fresca, basilico, nocciole, mandorle, insomma abbiamo arricchito un'insalata tipicamente estiva. L'evento è parte del progetto Scavolini iFood in Store, un blog tour in 100 tappe che si traduce in un infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza, a cui vengono abbinati vini bio. Noi stasera abbiamo presentato tre vini in effetti, uno che lo abbiamo abbinato a un piatto che è un'insalata, quindi un piatto molto fresco ed è il Nassa, che è un grillo 100% in purezza. Consideri che è un grillo che ormai viene prodotto in regime quasi di biologico. È un percorso che abbiamo voluto fare proprio perché la tendenza, sentivo parlare poco fa di biologico, la tendenza è questo ormai, di trovare dei cibi, dei vini che siano puliti e quindi andare verso quelle che sono le esigenze dei consumatori di un cibo sano e magari come era fatto una volta. Con questo servizio si conclude l'edizione di MTG, grazie come sempre per averci scelto, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani. Grazie.